ok ci siamo, voglio vedere qua che come viene indicato studio, c'è live video, non viene indicata la live, perchè non viene indicata la live, qui c'è, vediamo un po', 1, 2, 3, vediamo un po', 1, 2, 3, vediamo un po', interessante, interessante, vediamo i tipi di pesce che abbiamo, vediamo, si, sto facendo delle prove ragazzi, perciò devo anche capire un attimo come gestire la cosa, vediamo, si, ci sta, così ci sta, riesco a capirla, non ho capito due cose ragazzi, perciò devo capire un attimo come la live viene impostata, vabbè, adesso devo vedere una cosa, però io riesco a condividere nei vari social, vediamo un po', copia link, allora intanto andiamo a pesca, giusto per iniziare, giusto per iniziare, poi lo mettiamo qua, lo mettiamo qua, lo mettiamo qua, stiamo pescando a feeder, interessante, nuova, usica, e andiamo, e andiamo a feeder, qui chi 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 Allora. Buona. Bell'anzo. Bell'anzo. Adesso vediamo cosa decchiamo. Oh! Il campanellino fa... Commenti per il list... Campanellino e vibrazione. Ci può stare. Ci può stare. Mettiamo un po' in tiro. Ci può stare. Questo giochino ci può stare. Se qualcuno vuol fare un po' di balotta ragazzi può dire qualcosa in chat. Senza nessun problema. Tanto la balotta si fa sempre. Ora vediamo un po' se riesco a gestire la cosa. Vediamo. Se lo faccio così. Parte. Commenti. Ci sta. Ci sta. Poi lento ma va. Aspetta che questo qua lo digetto da domanda anche a Luca. 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 E Morridge. E Giurluca. Chissà se vengono dentro. Questa. Oh, libellula! Se per l'uomo conviene conviene star lì? Allora, andiamo a vedere e andiamo a prendere le palline di semola Le, no, qua varie pesche e siamo Sempre la pesca è un po' particolare Preso È un bagaglio, è un bagaglio Ragazzi, siamo in quarantena devo farmi passare il tempo Bell'amore Gigio Pesco Ciccio che l'ho visto fare da dei livelli molto più superiori ai nostri e fa Ciao Gigi Ciao Gigi Stasera Garruzza, eh Non so se capiamo come si fa Stasera gara Cacchio Ma mi senti Gigi? Gigi Mi senti Gigi? Si, si, no Stasera Garruzza ci mettiamo d'accordo Poi ti passa anche il tempo Vedi me a pescare Questo è un bufalo, eh Questo è un bufalo piccolino mezzo chilo un bufaletto Eh Sono troppo avanti Si, rompo sto par... Ti ha bannato perché hai dato una parolaccia Ma è bellissimo questa cosa qua è bellissima Te l'avevo detto Te l'avevo detto Te l'avevo detto E' un bufalo E' un bufalo Sì, sì No, non è che perché E mi dico Questa tecnica qua l'ho vista fare l'ho vista fare a gente che era 30-35 di livello feeder campanellino mano e via appeso l'ho vista fare col più Oh, stai zitto Hai sentito il campanello Si sente il campanello? Uiii Questo è un bufalo piccolino o un gatto, eh mi sa di gatto è un altro bufalo ma vedere come tira No, no, non ho il piombo ho la gabbietta non so come si riempie Ho la gabbietta Vedi che si vede la gabbietta Vedi che si vede la gabbietta Ah, però Interessante 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 se io sto tra se sto tra la mia bola in fondo Eh, sì mi ha chiedato Francesco E ci siamo E altro pezzo per il volo Questa tecnica qua è micidiale È micidiale Oh, interessante Vedi già? Grazie 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 copia il link, vado su mio personale e fa pubblicità vabbè, tac, preso, un'altra volta vado qui vado qui vado qui buono questo vado qua mollo, vado qui vado qui eccetto avvio no eccetto avvio eccetto avvio ecetto avvio ecetto avvio ecetto avvio bella 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 ecetto avvio ecetto avvio ecetto avvio ecetto avvio ecetto avvio ecco 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 Grazie a tutti. La base di andare su YouTube è che la gente non deve avere Twitch, ti mando il link e uno ci va a diventare un automatico, invece Twitch devi scaricare con un gran pugnetto, ora mi trasferisco qua. Grazie. 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 Grazie a tutti. Tecchiamo un po'. Che cosa combiniamo Sì ci siamo. eccolo qua pubblico vedi che l'ho becchiato ciao Gigi e bam ah le live che ho fatto io allora, dettagli, analisti, visualizzazione, opzioni mi sta bene ciao 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 salvo salvo seleziono dirette live e provate dietro le dirette live se si va bene fine ci sta carica miniatura cosa ci fa ah no non devo fare niente si si salvo ci sta dentro tutto ci sta dentro tutto ciao 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 qui Grazie a tutti. Ci sta, ci sta, ragazzi, ci sta, ci sta tutto, ci sta tutto. Ci sta tutto. Un po' chiaro. Non è molto tradizionale, però ci sta, dai. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi sul canale di FullTimerPesca. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi sa che abbiamo finito. Ahia, anche questa è finita. Grazie a tutti. Allora, proviamo con i bigatti. Allora, qui però... Mani vuote. No, sbagliato. Perfetto. Perfetto. Vediamo che cosa combiniamo, ragazzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, finisco tutte le esche così. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Oh. Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Maxi. Grazie a tutti. giusta ciao ragazzi oggi a feed era un po' particolare con i mellows mellows le mie ossa scappato via subito a via a via a via Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.